Buongiorno a tenere l'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano, oggi è il martedì 2 di marzo del 2021 e noi stiamo qui perché vogliamo leggere la parola del Signore insieme. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno su questo canale di Nicodemo Fabiano tu puoi ascoltare e leggere la parola di Dio insieme a me. In questo cammino della parola di Dio tutti i giorni noi leggiamo da uno a massimo tre capitoli della parola di Dio e così facendo noi avremo finito la lettura di tutta la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. È un cammino che giustamente ci vorranno dei mesi e noi continueremo giorno per giorno perché noi sappiamo che la parola ogni giorno leva la tentazione di torno. Ecco, se tu rimani nella parola di Dio sarai sempre fortificato. Se hai perso una puntata non c'è nessun problema, torna sempre qui nel mio canale di Nicodemo Fabiano e nella playlist di Leggiamo la Bibbia insieme puoi trovare tutte le puntate incominciando da Genesi capitolo 1 versetto 1 fino al tempo che noi stiamo leggendo. Stiamo leggendo il libro di Esodo che è il secondo libro della Bibbia e durante questa giornata, la giornata odierna, abbiamo modo di leggere Esodo capitolo 32 e capitolo 33. Allora, leggiamo la parola del Signore insieme. Esodo capitolo 32, parola del nostro Signore. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Arone e disse Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Arone rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie e portatemi lì. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Arone. Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampo ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero, O Israele, è il tuo Dio che ti ha fatto uscire. Questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quindi immaginate un po' la scena. Quando Arone vide questo, costruì un altare davanti al vitello, esclamò Domani sarà festa in onore del Signore. L'indomani si alzarono di buon mattino, offrirono holocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Il Signore disse a Mosè, Va, scendi perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo ordinato di seguire, si sono fatti un vitello di metallo fuso, lo hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto, O Israele, questo è il Dio, il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse ancora a Mosè, Ho considerato bene questo popolo, ecco, è un popolo dal collo duro, dunque lascia che la mia ira si infiamme contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè sopplicò il Signore e il suo Dio e disse, Perché, oh Signore, la tua ira si infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché gli egiziani direbbero, Egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le montagne e per esterminarli dalla faccia della terra. Calma l'ardore della tua ira e pentiti del male di cui minacci il tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e Israele, i tuoi servi ai quali giurasti per te stesso dicendo loro, Io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo, darò la vostra discendenza a tutto questo paese di cui vi ho parlato, ed essa lo possiederà per sempre. E il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio e la sua scrittura era scrittura di Dio incisa sulle tavole. Or, Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè, Si ode un fragore di battaglia nell'accampamento. Mosè rispose, Questo non è il grido di vittoria, né il grido di vinti. Il clamore che io odio è di gente che canta. Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze. E l'ira di Mosè si infiammò, e li gettò dalle mani le tavole e li spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò con il fuoco, lo ridusse in polvere e sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Mosè disse a Arone, Che ti ha fatto questo popolo che li hai attirato addosso un così grande peccato? Arone rispose, L'ira del mio signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che ti incline al male. Essi mi hanno detto, Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. Io ho detto, Chi ha del loro, se lo devi, lo levi di dosso. Essi me l'hanno dato e io ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Arone lo aveva lasciato sfrenarsi esponendo all'obrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso di quell'accampamento e disse, Chiunque è per il Signore, venga a me. E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro, Così dice il Signore, il Dio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. E i figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè in quel giorno cadero circa 3.000 uomini. Poi Mosè disse, consacratevi oggi al Signore, ciascuno a prezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione. L'indomani Mosè disse al popolo, Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò dal Signore, forse otterrò che il vostro peccato sia perdonato. Mosè dunque tornò al Signore e disse, Ahimè, questo popolo ha commesso un gran peccato e si è fatto un Dio d'oro. Non di meno, perdona ora il loro peccato, se no, ti prego, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Il Signore rispose a Mosè, Colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduci il popolo dove ti ho detto, Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. E il Signore colpì il popolo perché esso era l'autore del vitello che Arone aveva fatto. Parola del Signore. Ora noi leggeremo Esodo capitolo 33. Il Signore disse a Mosè, Va, sale di qui, tu con il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto verso il paese che promisse con un giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo, Io lo darò alla tua discendenza. Io manderò un angelo davanti a te, e scaccerò i Cananei, gli Amorei, gli Titi, i Ferisei, gli Ivei e i Jebusei. Egli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, ma io non salirò in mezzo a te perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche esterminarti lungo il cammino. Quando il popolo di queste dure parole fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti. Infatti, il Signore aveva detto a Mosè, Di ai figli di Israele, Voi siete un popolo dal collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Ora dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare. E i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Oreb in poi. Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori dell'accampamento, a una certa distanza dall'accampamento, e la chiamò tenda di convegno. E chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda. Tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. Or, il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè, figlio di Nun, suo giovane aiutante, non si allontanava dalla tenda. Mosè disse al Signore, vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or, dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è il popolo tuo. Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria e il Signore rispose, io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse, ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano di me e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Caro amico, cara amica, per te fratello e sorella in Cristo, Mosè voleva vedere la gloria del Signore. Oggi io e te possiamo vedere la gloria di Dio attraverso la sua parola. Oggi noi possiamo essere riempiti dalla potenza di Dio. Oggi noi possiamo essere fortificati nel Signore. Dio è sempre pronto a dare grazia Sua a chi Lui desidera. E se tu conosci il Signore, se vivi con il Signore, certamente tu diventerai un recipiente della grazia divina. Io spero che tu sia stato edificato dalla lettura della parola di Dio e io vorrei veramente che anche te domani potessi continuare con me a leggere la parola di Dio insieme. tutti i giorni, da mesogiorno, da lunedì al venerdì, noi per la grazia divina saremo qui per leggere la parola del Signore. Che Dio ti benedica grandemente. Io ti abbraccio fortemente in Cristo. Un santo bacio nel tuo cuore. Vieni a pregare anche con me domani mattina alle ore 7 su Alba Nuova Potenza nella preghiera. Dio ti benedica nel nome di Gesù. Alba Nuova